In A1 in direzione Roma code a tratti tra Calenzano e Firenze Sud e rallentamenti tra Firenze Sud e in Cisareggello per traffico intenso. Sulla FIPILI ci sono code in entrambe le direzioni tra la Strassigna e l'allacciamento A1 e code in uscita a la Strassigna. In A11 in direzione Pisa coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est e un chilometro di coda in direzione Firenze tra il Bivio per la 11 e Firenze per Etola. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. A Firenze per i lavori della tramvia in via di Novoli, restringimento di carreggiata tra via Torre degli Agli e via Tagliaferri. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!